o primo video extra assolutamente non previsto per farvi vedere una cosa tra l'altro fatto con mezzi d'emergenza senza lo stabilizzatore senza nulla per farvi vedere la prima accensione della retroid pocket 4 pro e gli accessori che ho preso il grip e la confezione come sempre molto carina stile odin anzi stile retroid perché questa nasce così vale la pena spendere 15 euro circa ciascuno per queste cose ma secondo me sì secondo me sì cerchiamo di capire se si riesce a inserire bene ecco come vedete l'ho inserito con una sola mano e migliora quello che è il grip della console unico dubbio che mi viene è che qua dietro copre un po la presa d'aerazione per la ventolina vediamo se c'è un po di carica e così facciamo la prima accensione questo posso farvelo vedere solo solo adesso perché è una volta che l'avrò fatta visto che me l'avete chiesto in tanti per la odin è quasi un casino di pazzi ma comunque vediamo un po se riesco a farvelo vedere sinceramente sono contento dell'acquisto è fatto chiaramente con una stampante 3d c'ha tutti i buchetti suoi qui non ho la sd la metteremo in un secondo momento comunque questa è la schermata iniziale welcome to retroid 4 pro next vediamo se ci sono altri linguaggi cerchiamoci l'italiano isi zulu no italiano italia mettiamolo come linguaggio principale torniamo indietro next a questo punto ci chiede di connetterci a internet accendiamo il wifi questo è il mio wifi mi connetto inserisco la password anzi la vado a recuperare e poi mi ricomincio il filmato bene riprendiamo da qui dopo vari smadonnamenti sono connesso qua ci fa selezionare la nostra time zone e dobbiamo dire che siamo in italia eccolo benissimo e torniamo indietro a questo punto ci chiede i play services che abiliteremo e vorrà sapere ah benissimo benissimo guardate qui ci chiede se vogliamo preinstallare delle applicazioni e noi le vogliamo installare tutte quindi ci mette sia citra sia citra in ansed dig penso che sia un emulatore di avventure dolphin emulator dolphin for handle di questo forse ma di si da installiamo tutto tutte 29 gli emulatori che lui ci consiglia ma poche mmo sinceramente non lo voglio po jav launcher non so cos'è moonlight servi root quindi vedete un po questi sono emulatori l'emulatore del dreamcast l'emulatore della psp retro arch steam link san andreas united benissimo vediamo un po qui ci sono anche dei giochi che ci suggerisce ci suggerisce anche non è che prenda benissimo il tocco e devo dire eter sx tool emulatore della playstation e yabba sanshiro l'emulatore del siga saturn retro arch e 32 bit perché sì signori questa console è compatibile con i giochi a 32 bit forse solo uno non ho installato benissimo a questo punto procederà all'installazione di queste applicazioni ripeto il grip mi piace molto sono stati tutto sommato 25 euro tra chissà poi se con i grip va nella console oppure no 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 vedete questo è un bel problema quindi se volete utilizzare la custodia originale dovete toglierla dal grip scelta un po stupida bene ci fa scegliere in questo caso quale dei due launcher vogliamo utilizzare immagino che possa essere tranquillamente intercambiabile uno semplificato viene chiamato rp4 pro launcher dove ci fa vedere vedete ci fa vedere semplicemente i vari emulatori e le varie piattaforme e un altro come se fosse un normale tablet android ecco l'ho selezionato non prende molto bene il tocco questa cosa ma adesso la aggiornerò e poi vi dirò la configurazione può dirsi completata anche se io non ho messo le impostazioni di google magari me le chiederà dopo completiamo e questa è madonna quanta roba e questa è la retroid pocket 4 pro nella prima configurazione adesso immagino immagino che aprendo il play store mi chiederà i servizi di google ecco l'accesso benissimo torniamo indietro questa è la prima configurazione scusate la qualità infima del video e ma lo sto tenendo letteralmente in mano non avevo altro modo ma o la facevo adesso oppure non l'avreste vista mai più perché avrebbe considerato e comportato un reset della console la console è arrivata finalmente ho avuto modo di metterci le manacce vi ringrazio tutti uscirà una prova ben più completa ma per adesso visto che me l'avete chiesta in tanti questa è la prima accensione della retroid pocket 4 pro lo stesso discorso per chi avesse la odin 2 è lo stesso sono due console gemelle nel senso che sono fatte dalla stessa compagnia e quindi quello che ha una ha anche l'altra va bene va bene ciao a tutti da giso e alla prossima